Monsignor Filsina, prima di tutto benvenuto a Brendisi, quindi domani ci aspetta un grande concerto per l'occasione dei 25 anni del coro polifonico a Civescovile San Leucio, quindi il concetto di domani resta con noi signore, ce ne parli un po' Monsignor Filsina. In un momento anche particolare come questo anche storico per tutto il mondo, un momento di difficoltà, un momento anche di comprensione del senso della vita, della spiritualità che sembra eglessarsi, eccetera. È bello poter fare questa memoria, 25 anni di musica ma anche di febbre, 25 anni di celebrazioni, di momenti di festa, fatti in un territorio ben preciso, questa è la forza del coro diocesano, ovvero una realtà viva, una comunità cristiana che esprime se stessa. Resta con noi, è bello pensare che il signore rimane sempre con noi, siamo noi che dobbiamo ospitarlo, ecco, lui vorrebbe starci sempre, quindi sta a noi trovargli una stanza nella nostra vita, nella nostra realtà. Sempre, quindi domani grande attesa. Complimenti maestro. 25 anni, un compleanno ma in realtà siete voi che fate un grande regalo a questo territorio? Beh, veramente noi siamo nati per servire il territorio, quindi siamo un'associazione che se non fa qualche cosa non è presente, l'associazione deve fare qualche cosa per essere presente. Questi 25 anni sono stati 25 anni densi di attività, quindi concluderli dopo 25 anni con delle manifestazioni, tra cui completarle con quelle di stasera, mi sembrava la cosa più ovvia che il coro San Leuge potesse fare alla città di Brindisi e soprattutto a coloro che hanno seguito in questi 25 anni il coro, sostenendolo, lavorandoci dentro e quindi noi stasera siamo veramente contenti. Proviamo tutti quanti una gioia semplice, però una gioia che vogliamo condividere con gli altri.